Ben ritrovati, come state? Un saluto a tutti, vi ricordo come sempre di commentare numerosi, di lasciare un like e di iscrivervi in questa zona numerosissimi. Ultima ora che riguarda Giroud, perché insomma mi avete scritto diversi con dei messaggi, sono circolate alcune cose, non so chi ha messo in giro certe voci, e quindi abbiamo cercato di capire insieme se effettivamente c'era un problema per Giroud. Qualcuno aveva parlato addirittura di una lesione al polpaccio, lesione al polpaccio ragazzi significa che stai fuori diverse settimane. Io sapevo che il giocatore puntava ad entrare con la Roma, però mi ha sorpreso molto questa cosa, quindi abbiamo poi ricevuto, fatto delle verifiche, e visto che in tanti avete scritto si è sparsa questa voce, mi sembrava giusto insomma dedicare un video a questo aspetto, a questa notizia. Giroud sta bene. Giroud sapete che ha ricevuto quella botta con Kim al tendine del polpaccio, ha saltato l'ultima gara, ma anche per gestione, oggi lavoro personalizzato, ma per gestione, non per lesione. Gestione e lesione fanno rima, ma sono due cose molto diverse. E direi di, su certi aspetti, non pensare troppo a quello che si scrive sui social, uno, basta che uno scrive un tweet, una cosa, circola questa voce, lesione al polpaccio per il giro, in realtà no. Oggi lavoro personalizzato, tutto lascia in dire che domani lavorerà in gruppo, e ci sono insomma ottime chance che lui possa giocare con la Roma nella gara di sabato. Per questo, insomma, visto l'allarmismo che si è creato, direi che bisogna stare tranquilli. Giroud non ha una lesione, Giroud sta bene, ha recuperato, sta recuperando, e quindi aspettiamo il ritorno in gruppo che dovrebbe essere nella giornata di domani. Mi sembrava giusto, e per il resto aspettiamo invece l'esito dell'esame di Zatane Ibrahimovic, che lui sì, invece, ha un problema serio al polpaccio. Ci vediamo presto per altri aggiornamenti, quindi tifosi eliminanti ha dato un bel sospiro di sollievo. Commentate numerosi, lasciate un like e iscrivetevi in questa zona, mi raccomando, attivate la campanella numerosissimi e su certe cose i social distinguete la fonte. Ciao ragazzi!